L'imprenditore Edile Raimondo Semprevivo, 47 anni, arrestato nelle due operazioni assedio ed alicon scattate tra luglio e agosto scorsi, peraltro riunite in vista di un unico processo, prova a convincere la direzione distrettuale antimafia a non chiedere il suo rinvio a giudizio per le accuse di estorsione aggravata e associazione mafiosa. In remoto dal carcere di Benevento, dove è detenuto, è stato interrogato, assistito dai suoi difensori Angela Porcello e Giovanni Castronovo, dal pubblico ministero Claudio Camilleri, che nelle scorse settimane gli ha fatto notificare insieme ad altre 20 persone l'avviso di conclusione delle indagini. Con Angelo Occhipinti ha detto Semprevivo, c'erano solo rapporti di natura familiare, è stato mio suogero per tanti anni ma non abbiamo mai avuto interessi in comune. Semprevivo, la prima volta è stato arrestato per l'accusa di estorsione. L'imprenditore, in particolare nel 2018, aveva un credito di 10.000 euro nei confronti di un altro costruttore all'equidipendenza, aveva lavorato in Germania senza essere retribuito. Per ottenere soldi avrebbe fatto quindi intervenire il capo mafia Angelo Occhipinti. I carabinieri documentano un incontro filmato con le telecamere nascoste che produce un accordo utile solo in parte. L'imprenditore, infatti, gli dà solo la metà dei soldi richiesti. A parte che la mediazione ha portato solo a incassare la metà del mio credito, ha spiegato semprevivo al pubblico ministero, in ogni caso è stata mia moglie a parlargliene a Occhipinti in un contesto di discussioni familiari e non certo per altri motivi. Nella seconda operazione si contesta semprevivo l'accusa di associazione mafiosa, questo perché dagli sviluppi della prima indagine sarebbe emerso il ruolo di vero e proprio braccio destro dello stesso Occhipinti.